Nuova trasmissione per noi, negozio di più, piazza Trilussa numero 10. Accantonato il periodo invernale, cominciamo un altro capitolo, quello estivo, dove negozio di più, piazza Trilussa numero 10. Vi ricordo che noi ci troviamo a Palermo, ci troverete aperti da lunedì alla domenica. La domenica apriamo alle 9 e mezza. Cominciamo con la trasmissione di oggi, ovviamente vi ricordo che i miei sono solo dei piccoli esempi, troverete l'amica di tutti, quindi parliamo della borsa, tantissimi articoli qui per voi, dalla borsa con le paillette alla borsa più semplice, ovviamente sia articoli da mare ma anche articoli da passeggio. I telomare sono arrivati tantissimi, stiamo parlando degli articoli positano, troverete ovviamente per ogni articolo in abbinamento il caftano, il costume, ancora il fareo con diverse fantasie, con diversi colori ma anche con diversi tessuti. Passiamo a questi articoli, abbiamo dedicato una stanza solo e esclusivamente per loro, sono gli articoli dell'anno scorso, stiamo parlando che oggi li troverete con il 50%, ad esempio queste maglie con vestibilità da una M fino ad una W XL, stiamo parlando di 49, prezzo iniziale, oggi 24,50 euro. Sempre 50% per quanto riguarda questa maglia, 29 euro quindi 14,50, 50% sempre per quanto riguarda questi articoli, vi ricordo sono dell'anno scorso, quindi 50%, ovviamente parliamo della merce estiva, state vedendo abiti lunghi, abbottonati davanti, con vestibilità grandissima, anche per quanto riguarda questi, li avete trovati l'anno scorso, li pagherete oggi con il 50%. 50%, vi ricordo una stanza dedicata a loro, quindi a questi articoli con il 50%. Anche per quanto riguarda i costumi, ma sempre rimanendo a parlare, i costumi dell'anno scorso, 50%, 50% quindi qui scendiamo a 19,50 euro, 50% ancora 24,50 euro, 50%, 50%, 50% vi ricordo solo negli articoli dell'anno scorso, potevamo mettere, li potevamo inserire negli articoli nuovi, ma noi ovviamente abbiamo questa politica, quindi gli articoli dell'anno scorso li pagherete con il 50%, qualche esempio per quanto riguarda il prezzo, 29,50, 50% anche per quanto riguarda questo. Fermiamoci con il 50% e passiamo ai nuovi articoli, nuovi arrivi, articoli di caftani bellissimi, sono arrivati tantissimi caftani, sia manica lunga, gli abiti lunghissimi, belli, smanicati, con svariate ovviamente fantasie, colori, troverete ovviamente non può mancare il bianco, per quanto riguarda sia gli abiti ma anche le camicie troviamo il multicolor e ancora le maglie così con la manica tre quarti, bellissimi sono questi articoli, stiamo parlando dei caftani, stiamo parlando delle maglie, stiamo parlando degli articoli ovviamente qui parliamo di prezzi interi, per quanto riguarda la nuova collezione estate 2019. Continuiamo a parlare di abiti, continuiamo a parlare di caftani, continuiamo a parlare dei nuovi arrivi, è arrivata quasi tutta la collezione estate 2019, troverete articoli dalla 42 fino alla 83 per quanto riguarda la vestibita dei nostri articoli, questi sono sempre dei piccoli esempi, troverete articoli lunghi, articoli corti, caftani con la manica lunga, caftani con la manica corta, ancora queste maglie così, ancora l'abbiamo visto con la manica lunga, lo stiamo vedendo con lo smanicato. Passiamo adesso agli articoli uomo, parliamo dalla 46 fino alla 86 per quanto riguarda la vestibilità dei nostri articoli, ancora stiamo guardando questa volta i costumi uomo, vi ricordo dalla 46 alla 86 la loro vestibilità. Anche parlando di maglie uomo sono molto belle, parliamo delle polo, parliamo delle t-shirt, pezzi piccolissimi, partiamo dalla M arriviamo fino ad una 10XL, quindi grandissima è la vestibilità degli articoli, ovviamente parliamo delle maglie a mezza manica di cotone, quindi sia le polo ma anche le t-shirt. Stiamo guardando invece le camicie, sono appena arrivate queste, sia manica corta, quindi la mezza manica che la manica lunga, sempre vestibilità da una doppia fino ad una 10XL. Continuiamo a parlare sempre di articoli da uomo, continuiamo a parlare di vestibilità grandissima, quindi vi ricordo fino alla 86 per quanto riguarda gli articoli, soprattutto da uomo, sono veramente molto grandi, vestono veramente abbastanza comodi. Stiamo parlando dei bermuda, parliamo dei pinocchetti, dalla 46 anche qui fino alla 86 la vestibilità per quanto riguarda questi articoli. Fermiamoci e parliamo questa volta della donna, tantissime maglie dai colori più tenui, quindi non può mancare il blu, non può mancare il nero, ma anche i multicolor, quindi svariati sono i colori, dai colori più delicati, dai colori più scuri, ancora le fantasie. Ancora parliamo questa volta delle maglie, troverete tantissime maglie per quanto riguarda la nuova collezione, stiamo guardando qualcosa di più giornaliero, stiamo guardando qualcosa di più elegante, troverete, vi ricordo ancora qui, maglie, abiti, vestiti completi dalla 46 fino alla 86. Parliamo questa volta delle maglie, adesso ovviamente ci saranno delle ricorrenze più o meno eleganti, più o meno importanti, qui da noi troverete tantissimi articoli, vi ricordo dalla 46 alla 86 la vestibilità dei nostri articoli. Manica tre quarti, manica corta, quindi tutta la collezione estate 2019 è presente qui in negozio, vi ricordo negozio di più, piazza Trilussa numero 10, apertura da lunedì alla domenica, la domenica apriamo alle 9 e mezza, noi ci troviamo a Palermo, effettuiamo spedizione in tutta Italia, quindi potete telefonare ai numeri che vedete in sua impressione e quindi dedicheremo a voi il nostro tempo per le vostre spedizioni. Continuiamo e stiamo guardando le maglie, ovviamente vi ricordo che i miei sono sempre dei piccoli esempi, troverete maglie molto grandi, maglie molto comode, ovviamente non possono mancare i pantaloni, i pantaloni in viscosa, dagli articoli più simpatici agli articoli più classici, quindi articoli in viscosa fino alla 86 la vestibilità, ancora le gonne, le gonne in viscosa lunghe al ginocchio, i pantaloni più o meno operati, quindi più o meno bizzarri e ancora questi che sono grandissimi, grandissime la vestibilità di questi articoli, ancora abbiniamo queste alle maglie che abbiamo visto in precedenza, ancora anche qui possiamo fare un completo e ancora i pantaloni in viscosa con vestibilità fino ad una 5XL. Passiamo adesso ai costumi perché appunto sono arrivati anche quelli, quindi questi sono quelli di quest'anno, vi ricordo che soprattutto per quanto riguarda il costume sono degli articoli molto ricercati, noi qualcosa ce la facciamo fare apposta, troverete il preformato, troverete la coppa, troverete vestiti, perché sono veramente molto molto lunghi, il vestitino per signora fino alla 86 la vestibilità di questi articoli, ancora troverete i dissociati, quindi li possiamo prendere insieme ma lo possiamo prendere separato, troviamo il sotto duple fase, ancora il tankini anche qui lo possiamo prendere insieme ma lo possiamo prendere separato, questi sono gli articoli, gli unici articoli che noi abbiamo per quanto riguarda i dissociati, poi il resto cammina insieme, quindi troverete la coppa, troverete articoli duple fase, troverete il ferretto, troverete coppa C, quindi le differenziate coppa C, coppa D, coppa E e coppa F, vi ricordo che i miei sono sempre dei piccoli esempi, per quanto riguarda il costume siamo innanzitutto molto forniti ma soprattutto abbiamo una grande conoscenza degli articoli per quanto riguarda la vestibilità, fino alla 86 è la vestibilità dei nostri articoli, quindi dalla 44 alla 86 anche per quanto riguarda il costume, troverete qualcosina da abbinare al copricostume, quindi parliamo sia dell'intero ma anche delle due pezzi, troverete la coppa interna, ancora quello che si allaccia dietro che è stato un articolo molto ricercato soprattutto l'anno scorso, sempre da abbinare al suo copricostume, sempre articoli così da abbinare, ancora stiamo guardando gli articoli interi, quindi vi ricordo coppe differenziate, articoli con vestibilità fino alla 86, questi sono soltanto i primi che sono arrivati perché giornalmente cominceranno ad arrivare tutti gli articoli per quanto riguarda la collezione 2019, stiamo guardando questi, stiamo parlando di ferretto interno, stiamo parlando coppa C, coppa D, coppa E, coppa F, ovviamente vi ricordo che ci troverete aperti da lunedì alla domenica, noi ci troviamo a Palermo e effettuiamo spedizione in tutta Italia, magari non riuscirete a vedere nello specifico gli articoli ma vi assicuro che la vestibilità e la ligra è veramente ottima, continuiamo a parlare sempre di due pezzi, continuiamo a parlare sempre della nuova collezione 2019 dei costumi, parliamo e passiamo adesso ai caftani, sono arrivati tantissimi articoli per quanto riguarda il caftano, quindi l'abito così multicolor, troverete la mezza manica, la manica scivolata, ancora troverete lo smanicato, troverete i caftani lunghi, troverete i caftani corti, quelli più elaborati, quindi con frange, con pompone, ancora multicolor, lungo e corto di questa fantasia, troverete tantissimi articoli, troverete la maglia, troverete il vestito, troverete il caftano, quello mezza manica, manica lunga, ancora l'abbiamo visto corto, lo stiamo vedendo lungo al ginocchio, ma sempre con colori diversi, vi ricordo il fulcro della nostra vendita, quindi gli articoli centrali per noi, sono le misure calibrate, quindi parliamo degli articoli grandissimi, come per quanto riguarda la vestibilità, fino alla 86, parliamo questa volta di purolino, e ovviamente diversi colori troverete all'interno del nostro negozio, ancora smanicati, vestiti in chiffon, abiti, parliamo di caftani, bellissimi sono questi articoli, ne troverete tantissimi, troverete un vastissimo assortimento per quanto riguarda l'abbigliamento, soprattutto la signora, dalla 46, 44-46, per quanto riguarda i caftani riusciamo a vestire anche una 40, gli abiti riescono a vestire fino alla 86, bellissimo quest'articolo, abbiamo visto esempio di queste diverse fantasie, fa il caftano, possiamo abbinare qui il pareo, possiamo abbinare il telomare, possiamo abbinarci anche la borsa, della stessa fantasia, quindi per chi vuole essere leggermente più particolare, per chi vuole ricercare i suoi articoli, noi possiamo anche offrirvi queste cose. Passiamo adesso a questi, questi ritiriamo sempre, arrivano sempre, sono i soliti duple fasi, quindi gli articoli a due, quindi riusciamo ad avere, riusciamo ad ottenere due fantasie in un vestito solo, sempre smanicato, manichetta lunga, manichetta scivolata, dalla misura più piccola, quindi potrebbe essere la 46, a quella più grande, fino alla 66, mentre le maglie sono sempre duple fasi, ancora i vestiti, l'abbiamo visto blu, stiamo vedendo color corda, quindi articoli bellissimi, articoli lunghi, abiti grandissimi, fino alla 86. Passiamo adesso alle maglie, quindi stiamo guardando, altro genero, altri articoli, altri generi, altri articoli, sono diversi rispetto a tutti quelli che voi avete visto in precedenza, guardiamo queste, sono grandissime, sono belle, sono, ovviamente non può mancare l'intramontabile bianco e nero, e ritorniamo a parlare questa volta del PUA, guardate che sono belle queste maglie, sono originalissime, ma sempre nelle misure grandi, nelle misure comode, parliamo e troverete maglie in questo minuto con la manica tre quarti, maglie con la manica scivolata, maglie eleganti, maglie da poter utilizzare per tutte le vostre ricorrenze, che adesso andremo ovviamente a prepararci, ancora maglie più giornaliere, maglie ne troverete veramente tantissime, da abbinare sia ai pantaloni, ma anche ai vestiti che troverete all'interno del nostro negozio. Continuiamo a parlare di abbiamento donna, grandissime la vestibilità di questo articolo, fino alla 86, parliamo delle viscose, parliamo della manica scivolata, parliamo ovviamente delle fantasie, delle fantasie molto delicate, ovviamente non può mancare il nero con la sua fantasia così, lunghissimi sono gli articoli, belli, comodi, leggeri soprattutto, con diversi pannelli, quindi con diversi colori. I completi anche qui, quindi pantalone e casacca, dalla M fino ad una 5XL. Ancora parliamo dei vestiti, questi sono molto belli, hanno questa cappa sopra, quindi sono originalissimi sia nello stile ma anche nei colori, nelle fantasie, quest'anno ci sarà veramente un'esplosione di fantasie, sono tutti molto molto belli, delle fantasie un pochettino più accesse, delle fantasie anche più delicate, sempre con la mezza manica ma anche con la manica lunga, sempre nelle misure grandissime, vi ricordo, dalla 46 fino alla 86, 83, 79, ovviamente dipende dagli articoli. Con questo io ho concluso, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima, vi ricordo questa è la prima trasmissione per quanto riguarda la nuova collezione 2019 estate, quindi estate 2019, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, vi ringrazio, ciao!